Adesso passiamo a momenti più espensierati perché a cavallo tra anno vecchio e anno nuovo noi andremo a mangiare cose speciali a Crispiano con Isabel Tramacere che è noto tra tante altre cose, questo bellissimo comune Tarantino, per le cento masserie. E' proprio una di queste masserie che grazie a Gino Taffuto e a tanti altri amici del Crispiano potremo vivere questi momenti di feste e soprattutto gustare le prelivatese cucinate appositamente per questa occasione di fine anno. Siamo appena arrivati a Crispiano e qui che rivive come ogni anno la magia del presepe che visiteremo dopo perché prima voglio andare a cucinare e a mangiare. E' qui che conosceremo una delle cento masserie per le quali questo territorio è famoso, ad accogliermi Gino Taffuto. Ciao! Sì, ciao! E intanto tanti auguri! Auguroni anche a voi per Natale, auguri a tutti! E buon anno ovviamente! E buon anno, certo! Noi siamo venuti a trovarvi qui proprio nelle ultime ore che ci separano dal 2011 perché abbiamo saputo che questa masseria è davvero divina. Grazie, grazie. E' una delle cento masserie appunto, è una masseria di vita ad hotel, centro benessere. In questo territorio appunto di Crispiano ce ne sono diverse di masserie tutte antiche, alcune sono grandi aziende agricole con prodotti di eccellenza, poi ci sono delle stalle nazionali con i nostri animali, con i nostri bovini locali. Il marchio Cento Masserie ormai comincia ad essere famoso in Italia. Di che cosa si tratta? Qui si tratta di una chiesetta costruita nel 1712, quindi due anni dopo la masseria che è del 1710. Questa fresca è originale di quell'epoca e la masseria prende il nome da quell'immagine di San Michele Arcangelo, dove si può ancora leggere la scritta Quis Ut Deus, che è la traduzione in latino del termine ebraico Mika El, la frase con cui San Michele Arcangelo scacciò Satana chiedendogli appunto in modo ironico chi è come Dio, Quis Ut Deus, che appunto in ebraico si pronuncia Mika El. Antonio Prota, Quis Ut Deus è cosa? Chi come Dio è il famoso urlo di San Michele, perché non ci può essere un altro Dio. Il nostro obiettivo è quello di far sentire i nostri ospiti delle divinità e quindi di qui nasce. Ad intuito secondo me ci riuscite. Speriamo, speriamo. Quali sono stati i vostri obiettivi? Che cosa volevate raggiungere nel richiare questa musea? E recuperare la tradizione di una masseria che da sempre è un grande scrigno di tesori e farla rivivere in una nuova veste e quindi coniugando la tradizione con l'innovazione. Io in pratica mi occupo a livello amatoriale di pietre e di tuffo, riesco a scolpirla e faccio anche delle mostre, a presentare le mostre. È un lavoro che ho appreso dai miei genitori, ho un nonno, ho un besnono che sono dei trullari, provenienza dal cisterino, quindi siamo molto, la mia famiglia, la mia generazione ha lavorato molto sui muri a secchi, anzi benvenuto nel nostro territorio perché qua raffiguriamo tutte le nostre masserie. In tutto sono 100, è un lavoro fatto su pietra, soprattutto è stato fatto capillarmente per quanto riguarda le lettere perché fare, scrivere le lettere in quelle dimensioni con il tuffo, è molto difficilissimo perché non ci si riesce più. Quando si andava alle masserie a fare le serenate alle ragazze, alle masserie... Ah, perché si facevano le serenate una volta, non ci sono più gli uomini di una volta. Io adesso ancora li faccio le serenate. Facciamo finta che la stai facendo a me. Ah, allora, facciamo finta che lei sta dentro, dentro alla masseria e poi c'è il tuo ragazzo, la fidanzata, che viene... Vabbè, facciamo finta che ci sta sto fidanzato. Quando la ragazza ha sentito la voce del ragazzo che si stava, modo significa bagnando, perché fuori stava piovendo, nel momento che questo ragazzo faceva la serenate, pioveva, allora diceva apri perché mi sto zuppando d'acqua. La ragazza, la fidanzata, sente queste parole, si affaccia dalla finestra, lo guarda, lo vede e gli dice Pizze di burca, notte a bagnare, tra gli aprumese e ti la ghiadà. Pizze di burca, notte a bagnare, tra gli aprumese e ti la ghiadà. Bravissimo! Allora, Donato, finalmente siamo nella tua cucina. Certo. Con cosa ci delizierai il palato oggi? Stasera vi delizio con delle costolette d'agnello. Quindi proprio un classico tema, diciamo, natalizio, festivo, da cenone o comunque. Sì, con delle costolette d'agnello, patate e lampacioni. Ah, ma va a cucinare tutto insieme? Sì. Cioè l'agnello con le patate e anche con le lampacioni? Agnello, patate e lampacioni, tutto in forma. Ah, sono curiosa, vediamo come procedi. Allora, procediamo, abbiamo già lavato e mondiamo le nostre patate, le peliamo. Sì. Le nostre pirapatate. Ma tu sei giovanissimo? Io sì. Quanti anni hai, diciamolo. Io, 23. E da quanto tempo cucini? Sono otto anni. Otto anni? Adesso tagliamo le nostre patate aspetti. Abbiamo una sbollentata alle patate. Una sbollentata, appena appena. Una sbollentata. In modo che poi si cuocano più velocemente. Sì, la tagliamo a un tempo minore delle patate. E poi mettiamo tutto in forno. Ed ora? Costolette. Sì. I nostri lampazzoni. C'è il cotto in precedenza. Come li hai preparati? Questi sbollentati in acqua e aceto. E basta. E basta? Sì. Del sale. Sale. Il nostro rosmarino. Che dà un profumo... Ottimo. Importantissimo. Olio. Dell'olio azzaro. Clicchiamo il tutto. E vi in forno. In forno. Certo. Donato, ci siamo? Sì, ci siamo. È pronto il nostro annetto. Vediamo. Mi fai sentire il profumo? Ma poi posso anche sentire il sapore? Certo. Ok. Allora, qui ci sono i profumi di questo piatto meraviglioso che ci hai preparato. Ma io volevo sapere dalla signora, che non a caso accanto a me, qual è il vino migliore da abbinare a questo piatto deciso? Ma io vedo che nel piatto hai un agnello con le patate. Io con questo piatto finirei senza dubbio un negramaro. Un negramaro della Masseria Mita, che è un rosso in purezza, sai, è un vino autoctono. Questo è un autoctono pugliese, il negramaro. E noi lo lavoriamo proprio così in purezza. È un 13 gradi e mezzo e quindi si sposa, secondo me si sposa benissimo con questo piatto. Facciamo una cosa, l'assaggiamo un mezzo. L'assaggiamo un mezzo. Vediamo un po'. Vediamo un po'. Ma è perché se io devo dare un parere che deve essere assolutamente vicino alla realtà, devo assaggiare. Io ho trovato il Lampacione. Io ho tutte e due. Sei stato bravissimo. Grazie per l'accoglienza. Grazie a voi. Noi verremo a trovarvi presto, vi ringraziamo davvero infinitamente. Siamo stati benissimo. Noi proseguiremo comunque il nostro giro per Crispiano. Grazie di cuore a tutti. Grazie a voi. Grazie a voi. Grazie a voi. Andiamo a vederlo insieme tra le mille suggestioni di tanti antichi mestieri fino ad arrivare alla magia della rappresentazione della natività. Grazie a voi. Grazie a voi. Grazie a voi. E con questo buon anno a tutti. Grazie a voi. Grazie a voi. Grazie a voi. Grazie a voi. Grazie a tutti.